La cittadella monastica di Santa Chiara fu costruita per l'ordine francescano ai primi del Trecento, su commissione del re Roberto d'Angiot e della moglie Sanzia di Maiorca. La chiesa si presenta a navata unica rettangolare, con cappelle laterali aperte da archi. Nel corso del Seicento il volto della basilica mutò radicalmente per gli adeguamenti barocchi. Preziosi stucchi, marmi, intagli lignei dorati, tele, tutti purtroppo andati distrutti nel bombardamento del 1943. Il restauro, terminato vent'anni dopo, restituisce all'edificio l'aspetto gotico, forse più severo dell'originario, ma ugualmente suggestivo. Nel coro delle Clarisse si conservano le tracce del passaggio di Giotto a Napoli, verso il 1328. Le fonti storiche della città raccontano di vasti cicli ed affresco, spariti già alla metà del XVI secolo, quando un reggente spagnolo ordinò di dare una mano di calce sulle pareti per rendere la chiesa più luminosa. Sempre nel coro si trova un grande affresco di Lello d'Orvieto, del 1340, mentre nella Sala Maria Cristina di Savoia ci sono due crocifissioni di due collaboratori di Giotto. All'interno del complesso monastico è visitabile il Museo dell'Opera di Santa Chiara, comprendente il Chiostro Maiolicato e alcune sale espositive con frammenti, ceramiche e decorazioni del monastero, prima che fosse bombardato. Vi è inoltre una zona archeologica di notevole interesse. L'area di Santa Chiara, infatti, un tempo fuori dalle mura cittadine, era stata adibita dai Romani, tra il I e il IV secolo, a zona termale, e ne sono ancora individuabili gli ambienti. La piscina, il laconium, il tepidarium e forse un frigidarium dalle imponenti arcate in laterizio. Solo in seguito, intorno al 1300, fu occupato dalle clarisse francescane. Il Chiostro, costruito negli anni 40 del XVIII secolo, è un delizioso capriccio decorativo voluto dall'abadessa Ippolita Carmignano, ideato dall'architetto Domenico Antonio Vaccaro, e decorato dai raffinati maestri della ceramica di pinta smalto, esperti artisti della maiolica. Appare più un giardino di svago che un luogo per la meditazione, punteggiato di sedili decorati da vedute pastorali, marine, feste carnascialesche, carri allegorici, un tripudio di fantasia che allontana l'ambiente da qualsiasi francescano rigore. I quattro viali si chiudono in un ottagono centrale, scanditi da pilastri incrostati di piastrelle maiolicate dai colori tenui, azzurro, giallo, verde, arancio. I tralci di vite, dipinti a spirale sui pilastri a fondo azzurro, e il vero vigneto che ombreggiava il Chiostro, davano l'effetto di un unico meraviglioso pergolato, con una fusione di natura e architettura inedita per il Settecento.